I cristiani, tutti i cristiani, hanno radici ebraiche. Lo ha ricordato Papa Francesco ricevendo in udienza i partecipanti al convegno internazionale promosso dall'International Council of Christian and Jews. A 50 anni dalla dichiarazione conciliare Nostra e Tate, il pontificio ha rimarcato che i cristiani credono che Gesù Cristo è la parola di Dio fattasi carne nel mondo, mentre per gli ebrei la parola di Dio è presente soprattutto nella Torah e che entrambe le tradizioni di fede hanno per fondamento il Dio unico, il Dio dell'alleanza che si rivela agli uomini attraverso la sua parola. Nonostante il passato non privo di tensioni, oggi i cristiani ed ebrei possono guardare con soddisfazione ai passi finora compiuti, rendendo grazie a Dio per tutto ciò che di buono è stato realizzato in termini di amicizia e di comprensione reciproca. La nostra umana frammentarietà, la nostra diffidenza e il nostro orgoglio sono stati superati grazie allo Spirito di Dio Onnipotente, così che tra noi sono andate crescendo sempre più la fiducia e la fratellanza. Non siamo più stranei, ma amici e fratelli. Confessiamo pur, con prospettive diverse, lo stesso Dio, creatore dell'universo e Signore della storia. Ed Egli, nella Sua infinita bontà e sapienza, benedice sempre il nostro impegno di dialogo. Grazie.